Grazie a tutti voi, cari amici e gentili ospiti. Vi rivolgo il più amichevole e affettuoso saluto e benvenuto della città di Torino, ringraziandovi di essere per tre giorni ospiti della nostra città. Un ringraziamento particolare voglio rivolgere al commissario di Expo 2015, al dottor Sala che è qui con noi e che è il protagonista e il motore di questa straordinaria iniziativa, con cui da mesi stiamo realizzando una ottima collaborazione. Un saluto al segretario generale del BIE, lo Sertales, un saluto alla dottoressa Bracco, commissario per il Padiglione Italia e un saluto a tutti i commissari generali dei vari paesi e dei 130 paesi che saranno con noi protagonisti di questo Expo, così come un saluto agli ambasciatori, i consoli, i rappresentanti del corpo diplomatico che sono qui numerosi a questo nostro incontro. Expo 2015 è, come tutti sappiamo, una straordinaria occasione. Le esposizioni universali sono diventate, anno dopo anno, un evento sempre più grande, una vera e propria vetrina del mondo della globalizzazione. Sono l'occasione per chiamare ogni nazione e l'opinione pubblica di ogni Paese a misurarsi con i grandi problemi del mondo e a concorrere insieme alla ricerca delle migliori soluzioni per il bene dell'umanità. Perché la globalizzazione anche questo ci ha insegnato che se i problemi sono comuni, bisogna ricercare insieme soluzioni comuni. Expo 2015 sarà dedicato, come sappiamo tutti, a un tema cruciale per la vita del mondo, per la vita di ciascuno di noi, soprattutto per il futuro delle generazioni e il destino del pianeta, l'alimentazione. Da quando l'uomo vive su questa terra, il cibo è stato uno dei tratti fondamentali della sua identità. Il cibo è il punto di incontro tra l'uomo e la natura. Il cibo è una delle manifestazioni che caratterizzano la cultura e la civiltà di ogni popolo. Il cibo è conoscenza, è relazione, è creatività, è produzione, è consumo, è lavoro. E per secoli coltivare la terra, produrre cibo è stata la principale attività economica di ogni nazione. E oggi viviamo un tempo nel quale c'è molta maggiore consapevolezza sul diritto ad un'alimentazione sana. Siamo tutti più attenti all'aria che respiriamo, all'acqua che beviamo, al cibo che mangiamo, alla terra in cui viviamo. Nutrirsi in modo sicuro e pulito non è soltanto un'aspirazione, come sempre è stato nel corso dei secoli. Oggi viene percepito come un diritto, un diritto rivendicato da un'opinione pubblica sempre più vasta. E quando si ha consapevolezza di un diritto se ne chiede la tutela e l'osservanza. E si chiede a chi ha responsabilità, in primo luogo responsabilità istituzionali e politiche, di mettere in campo tutto ciò che è necessario per garantire che il diritto all'alimentazione, il diritto a una nutrizione sana sia ottemperato. E le moderne tecnologie oggi, la società della comunicazione, i mercati aperti, consentono, dilatano gli orizzonti e gli spazi della produzione, dello scambio di cibi, il che rende ancora più stridente, ancora più inaccettabile che oggi vi sia chi soffre l'umiliazione e la sofferenza della fame in vaste aree di questo pianeta. A Milano 130 nazioni porteranno la loro cultura del cibo e con la loro cultura del cibo porteranno la loro storia, la loro civiltà. E per milioni di visitatori che verranno a Milano e nel nostro Paese sarà l'occasione per conoscere la ricchezza che il cibo porta con sé. Per questo la nostra città, la città di Torino, è particolarmente lieta di ospitare questo International Participants Meeting che segna l'avvio del cammino che tra venti mesi ci porterà tutti insieme all'Expo 2015. Torino e il Piemonte sono terra di antica tradizione, di antica tradizione agricola, agroalimentare, gastronomica. Torino e il Piemonte sono la terra dove è nato Slow Food, un movimento che ha cambiato il modo di pensare e consumare il cibo. Qui in questa città ogni anno si svolge il Salone del Gusto, il principale evento gastronomico italiano. Qui si svolge Terra Madre che ogni due anni riunisce i rappresentanti di oltre 7.000 comunità locali produttrici di cibi tipici e originali. Qui è nato Italy che si va espandendo in tutto il mondo e rappresenta un originale modo di far conoscere e consumare i prodotti tipici e di qualità. Qui in questa terra si sono affermate grandi e piccole imprese di produzione alimentare di cibo che si sono affermate in tutto il mondo per la qualità e l'originalità delle loro produzioni. E questi eventi legati al cibo hanno contribuito a cambiare il profilo di Torino. Avete visto le immagini della nostra città e avrete, spero, in questi due giorni, tre giorni, la possibilità di visitare la nostra città. E per chi questa città non la visita per la prima volta o chi l'ha visitata molto tempo fa, la città sarà una sorpresa. Perché di Torino si ha spesso l'immagine tradizionale e storica di quello che siamo stati per un secolo. Siamo stati per un secolo una grande città industriale, manifatturiera, produttiva. Torino è stata in Italia forse la più evidente e più classica factory town, una città legata indissolubilmente nella sua identità alla produzione manifatturiera, a partire dalla produzione automobilistica. Ma negli ultimi vent'anni questo profilo si è molto allargato e la città, senza perdere i suoi connotati, i suoi caratteri industriali, continuiamo ad essere un'importante città industriale, è divenuta tante altre cose. Siamo diventate una città finanziaria, sempre più importante, perché qui ci sono siti strategici della principale banca del Paese. Siamo una grande città universitaria, con due università di qualità, 100.000 studenti, il 15% dei quali stranieri, a conferma dell'attrattività delle nostre accademie universitari. Siamo un centro di eccellenza di ricerca, di innovazione, di tecnologia, e sempre di più si insediano a Torino centri di ricerca in ogni campo, perché qui c'è un background particolarmente favorevole a questo tipo di attività. Siamo una città che ha investito e continua a investire nella cultura, perché la cultura è sempre nella formazione, nel sapere, perché cultura, formazione, sapere, conoscenza, sono sempre più condizioni fondamentali per costruire lo sviluppo e la qualità della vita dei cittadini. E tutto questo, unito a un patrimonio architettonico, artistico, di valore internazionale, sta facendo diventare Torino anche una città turistica. È un buon paradigma Torino di come nella globalizzazione una città può via via cambiare e mutare la sua pelle e la sua identità. È il luogo in cui siamo, questa sala in cui siete voi seduti, ne è una manifestazione. Uscendo da questa sala voi vedrete che l'aspetto esterno di questo edificio è l'aspetto di una fabbrica, perché lo è stato. Qui siamo al Lingotto. Lingotto è lo stabilimento, il primo stabilimento di produzione fordista che nacque in Italia nel 1919. Per circa 80 anni in questo luogo hanno lavorato più di 10.000 operai e impiegati nella produzione automobilistica. Per un secolo è stato uno dei simboli della Torino industriale. Oggi è il simbolo di come questa città sta cambiando e trasformandosi. Quello che era una fabbrica è oggi un centro espositivo, un centro congresso, un centro fieristico, un centro di servizi terziari, un centro che ospita una parte delle facoltà universitarie, un luogo che esprime la pluralità delle vocazioni che segnano la vita della città. E non è un caso che qui si svolga il sonno del gusto, qui si svolga Terra Madre, a pochi metri di qui sia la prima sede di Italy. Il cibo, il gusto è stato una delle modalità con cui questa città è venuta cambiando la sua identità e il suo profilo. Con questo spirito, cari amici e cari ospiti, ci prepariamo al 2015, con un programma straordinario di eventi che la nostra città sta mettendo in campo, con cui vogliamo interagire e accompagnare la realizzazione di Expo a Milano e offrire a milioni di visitatori che verranno a Milano e in Italia la possibilità di conoscere questa città e attraverso la nostra città di arricchire ulteriormente la loro conoscenza del nostro Paese. Sappiamo di poter contare sulla vostra simpatia, sulla vostra amicizia. Vi ringraziamo per essere qui. Mi auguro che le ore di vostro soggiorno qui vi consentano di godere delle tante opportunità che la nostra città offre, ma mi auguro soprattutto che vogliate tornarvi spesso e ogni volta che ci tornerete sarete accolte con amicizia e simpatia. Grazie e buon lavoro. Grazie.